Radio Pirata, la radio nella radio. Ben ritrovati da parte mia e da parte di Gabriele. Cominciamo parlando di radio nella prima parte. Sarà una puntata un po' particolare perché andremo un po' indietro nel tempo. Sapete che spesso ci occupiamo di storia, questa volta con una RAI molto innovativa e sperimentale in un curioso programma del 1985. Radio Amatori Americani nel mirino della FCC, il museo Guglielmo Marconi di Torre Chiaruccia. Cosa molto importante che segnaliamo, visto che spesso e volentieri ci lamentiamo della mancanza di rispetto nei confronti di Guglielmo Marconi e della sua storia, quindi mi sembra doveroso sottolineare invece gli episodi e ovviamente i musei e le persone che hanno a cuore ancora Guglielmo Marconi. Ci occuperemo anche di Radio Student, una voce libera in pericolo. E iniziamo ad occuparci di radio con un esperimento radiofonico come anticipato, basato su innovazione e libertà creativa che la RAI ci regalò a metà anni Ottanta, così potrebbe essere definito appunto il programma intitolato La Strana Casa della Formica Morta, che è andato in onda per la prima volta il primo luglio del 1985. Ho cercato un po' di informazioni in rete, in realtà non ho trovato moltissimo, ma qualcosa che ci farà un po' sognare. Probabilmente questo programma finirà quanto prima nell'archivio di RAI Tech&Tech, quindi ci sarà anche la possibilità di ascoltare questo programma veramente innovativo che è durato comunque pochi mesi. Promotore del programma fu Corrado Guerzoni, allora direttore di RAI 2, nonché storica voce di RAI 2 3131, assieme a Lidia Motta, sua più stretta e fidata collaboratrice scomparsa nel 2006. Fu l'artefice tra l'altro di tanti indimenticabili successi della RAI, come ad esempio il Chiamate Roma 3131, le interviste impossibili, la grande prosa della radio italiana, Sala F, la prima sopopera radiofonica Matilde e tante altre trasmissioni. Nel 2000 ha pubblicato anche un libro intitolato La mia radio, edito Bulzoni. Per quanto riguarda questo programma, ai microfoni c'erano Fiamma Satta, Fabio Visca, Mauro De Cillis, Leo Antinozzi, William Ward. Erano loro che per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì e per tre ore a partire dalle 16.35 su Radio 2, hanno condotto in diretta La strana casa della formica morta. Titolo stravagante e fantasioso per indicare un programma fatto di parole, riflessioni e anche musica. Guerzoni affidò tre ore di diretta pomeridiana ad allora cinque ragazzi che avrebbero dovuto fingere di essere rinchiusi in una casa di campagna, lontani da amici e parenti. Volutamente non c'era una linea prestabilita di conduzione e per fortuna neanche il telefono, che era diventato un ingrediente già un po' abusato nelle trasmissioni radiofoniche. Per fare un paragone con il momento attuale potremmo dire il Whatsapp del tempo. Adesso accendi la radio, qualsiasi programma è lì che continua a leggere messaggi che arrivano da Whatsapp. All'inizio è anche interessante e carino, ma dopo un po' rompe un po' le scatole. L'intrattenimento in quel caso era affidato alla buona volontà e alla fantasia dei cinque giovani chiusi in uno studio di via Asiago, che nella finzione doveva essere appunto una casa di campagna isolata dal resto del mondo. Lì avrebbero messo alla prova la loro compatibilità, le loro capacità o incapacità nella preparazione di idee e materiali audio per un programma che sarebbe andato in onda in ottobre. Le loro personalità così lontane, le une dalle altre, anche in fatto di scelte musicali, avrebbero composto delle tendenze e gusti giovanili all'insegna delle diversità come valore. E questa è una delle cose importanti di quel programma. I cinque erano inconsapevoli, tra virgolette, di essere continuamente spiati dalla rete dei microfoni nascosti nella casa. Così quel loro stare insieme e quei loro goffi tentativi di preparazione del futuro programma autunnale rappresentavano in realtà la diretta, tra virgolette, del programma stesso. Il programma andò in onda fino a settembre del 1985. Ecco, questo è quello che ho trovato in rete su questo interessante programma che, ricordo, molto probabilmente finirà negli archivi di Rai Tech & Tech, quindi ci sarà anche la possibilità di risentirlo. Se volete altri particolari, il sito di riferimento, dove ho trovato appunto questo articolo, è diversamenteaf-abile.gazzetta.it Cercate l'articolo intitolato Turista per casa, in ricordo di Corrado Guerzoni e Lidia Motta, a firma di Fiamma Satta. Sempre su Radio Pirata, la radio nella radio, parliamo di radio, questa volta di radio amatori, quindi sempre la radio c'è di mezzo, con una notizia che è riportata da un sito di appassionati di radioascolto, che è swling.com, visto che c'è appunto la possibilità di parlare di radio, ma diciamo con un tono un po' diverso dal solito. Perché è vero che la radio fa bene, ma alle volte, purtroppo, se utilizzata male, come tanti altri strumenti, fa male. Bloccati dai social media, gli estremisti che discutono di rivolgersi alle radio per programmare attacchi. Lo fa notare la FCC, che è l'ente americano governativo che controlla appunto le trasmissioni. Il governo degli Stati Uniti avverte che i gruppi potrebbero utilizzare le apparecchiature radio come alternativa ai social media per pianificare future attività criminali. L'ufficio di controllo della Commissione federale, appunto la FCC delle telecomunicazioni, ha dichiarato che le persone che coordinano o conducono attività criminali sulle onde radio stanno violando la legge. L'ufficio di presidenza è venuto a conoscenza di discussioni sulle piattaforme di social media che suggeriscono che alcuni servizi radio regolati dalla Commissione potrebbero essere un'alternativa alle piattaforme di social media per i gruppi per appunto comunicare e coordinare le attività future. Lo ha detto la FCC pochi giorni fa, le persone che utilizzano le radio nei servizi radio amatoriali o personali in questo modo possono essere soggette a sanzioni severe, comprese multe significative, sequestro delle apparecchiature radio e in alcuni casi procedimenti penali. La FCC, lo ricordiamo, concede in licenza alcune frequenze affinché le persone possano trasmettere tramite onde radio. Questi messaggi sono generalmente protetti dal primo articolo della Costituzione degli Stati Uniti ma la FCC ha ricordato ai licenzatari e agli operatori radiofonici che è vietato trasmettere comunicazioni intese a facilitare un atto criminale. Le persone inoltre non sono autorizzate a codificare i loro messaggi per oscurare il loro significato alle forze dell'ordine quindi praticamente le trasmissioni devono assolutamente essere in chiaro come si dice in gergo tecnico cioè che uno accendendo appunto una normale radio ricevente possa capire e possa sentire di cosa si tratta. Le leggi che regolano le onde radio si applicano ai radiomatori che trasmettono messaggi che raggiungono lunghe distanze ma si applicano anche alle persone che utilizzano la radio Citizen Band, i famosi CB utilizzate per comunicazioni ad esempio tra camionisti o anche a livello amatoriale con i walkie-talkie. Sulla scia delle rivolte del Campidoglio del 6 gennaio Facebook, Twitter e altri principali social network sono diventati più vigili sul controllo delle persone che utilizzano le loro piattaforme per pianificare o incitare ad attacchi. ed è una posizione sicuramente importante quella della FCC di controllo per cercare di arginare questo fenomeno. Purtroppo si parla di radio anche in questi termini, spesso e volentieri parliamo di radio, la radio che fa bene ma alle volte purtroppo se lo strumento è utilizzato da persone con scopi ben diversi che il bene il risultato finale è decisamente pericoloso. Ancora di radio e radio amatori, si parla in Radio Pirata, la radio nella radio perché parliamo del papà dei radio amatori e il papà della radio comunque in generale, Guglielmo Marconi. Voglio ringraziare di cuore Achille De Santis che mi ha segnalato questo interessante articolo pubblicato su air-radiorama.blogspot.com che è il blog dell'Air, che è l'associazione radioascolto italiana perché voglio segnalarvi una cosa interessante che riguarda Guglielmo Marconi quindi non solo le lamentele fatte giustamente un po' di tempo fa sapete che ci togliamo ogni tanto dei sassolini dalle scarpe quando viene a mancare il rispetto e il ricordo per la storia di Guglielmo Marconi dall'altra parte mi piace anche sottolineare quelle che sono le situazioni dove si ricorda questa grande figura per la radio come il museo Guglielmo Marconi, Torre Chiaruccia, Santa Marinella in Roma ma un po' di storia, Terra Nova, St. John's, dicembre 1901 l'antenna ricevente dall'Aquilone che sta per essere librata in aria rappresenta un momento importante per Guglielmo Marconi e collaboratori la preparazione alla prima trasmissione radio transatlantica a una distanza di 2300 miglia, 3500 chilometri dell'11 dicembre 1901 da Poldo in Cornovaglia la radiofonia da quella storica data è stata infatti protagonista di un progresso tecnologico davvero stupefacente sempre più rivolta all'eccellenza e all'innovazione è stato inaugurato nel lontano, tra virgolette, lunedì 22 ottobre 2018 alla presenza di numerose autorità il museo Guglielmo Marconi il parco antenne e la stazione radio dell'Ari nell'area di Torre Chiaruccia secondo il progetto Città della Scienza realizzato dal professor Livio Spinelli all'interno del polo museale in un apposito edificio dedicato la sezione aree di Civitavecchia insieme alle autorità civili e militari che hanno tenuto a battesimo ufficiale in quel giorno la stazione radio commemorativa marconiana allestita per l'occasione con un nuovissimo ricetrasmettitore della Kenwood TS 890S e questa è una cosa che menziono per gli appassionati messo a disposizione dalla JVC Kenwood Italia a proseguimento tra l'altro della collaborazione iniziata già con l'International Marconi Day del 2018 l'Ari Civitavecchia nell'intento di ricordare il socio Patrizio Ciancarini Italia Zero KHP venuto a mancare nel 2012 che moltissimi radioamatori locali nazionali e internazionali hanno avuto il piacere di conoscere ha inteso intitolare la stazione radio in suo onore durante la giornata inaugurativa ci sono stati collegamenti radio speciali in HF effettuati sia dai radioamatori della sezione Ari di Civitavecchia sia dal battaglione trasmissioni tonale dell'undicesimo reggimento Torre Chiaruccia è una torre in muratura alta circa 20 metri sul litorale marittimo del comune di Santa Marinella fu costruita nel XVI secolo per l'avvistamento delle navi dei Saraceni in una zona adiacente alle antiche rovine dell'insediamento romano di Castrum Novum questa torre sarebbe soltanto una delle tante torri di vedetta costruite lungo il litorale Tirreno se non fosse stato che la zona divenne sede del centro sperimentale radioelettrico di Guglielmo Marconi sotto il controllo del CNR qui Marconi tra il 1930 e il 1937 portò a termine la sua avventura cominciata ufficialmente nel 1896 quando fece il suo primo brevetto per un radiotrasmettitore nello sperimentare la trasmissione radio tra Santa Marinella e varie località capì che le onde corte erano meglio trasmesse delle altre perché riflesse dalla ionosfera oggi il suo operato continua grazie al Cresm il centro radioelettrico sperimentale Guglielmo Marconi del CNR di Trieste specializzato nel settore di ricerca ICT e wireless altro destino è toccato a Torre Chiaruccia che invece fu fatta saltare dai tedeschi il primo febbraio del 1944 i ruderi tuttora ben visibili sono oggi sotto il controllo dell'aeronautica militare che vi ha installato una stazione meteorologica quindi complimenti a chi ha organizzato e reso possibile un altro momento di ricordo e soprattutto un altro museo dedicato a Guglielmo Marconi e ancora di radio si parla qui su Radio Pirata la radio nella radio questa volta purtroppo per il futuro incerto di una radio spesso e volentieri purtroppo segnaliamo notizie di problemi soprattutto economici ma alle volte anche scelte politiche che zittiscono alcune radio è il caso questa volta di Radio Student l'organizzazione studentesca vorrebbe tagliarle i fondi anche a causa dei dissidi sulla linea redazionale a suo favore si sono mosse oltre 400 istituzioni mentre una petizione ha già raccolto più di 13.000 firme questa radio è stata una dei simboli della democratizzazione della Slovenia una vera e propria spina nel fianco per il regime oggi continua ad essere presente nell'Etere sloveno e a offrire una ricca serie di programmi e contenuti giornalistici Stefano Lusa firma un interessante articolo pubblicato il 16 gennaio 2021 sul sito di Radio Capodistria Radio Student nasce nel 1969 sull'onda delle manifestazioni studentesche che coinvolsero tutta l'Europa e toccarono anche Ljubljana iniziò a trasmettere dallo scantinato di una delle case dello studente di Rosnadolina fu la prima radio studentesca del vecchio continente sfuggì molto presto dal controllo del regime e fu sin dai suoi albori un vero e proprio rifugio per tutta una serie di figure che divennero poi di primo piano nel mondo del giornalismo e della cultura slovena Radio Student fu anche la colonna sonora della democratizzazione slovena degli anni 80 e anche quella delle proteste dove i suoi redattori cominciavano a promuovere la libertà di espressione artistica e ben presto arrivarono a chiedere la democratizzazione della società quei ragazzi capirono prima di altri che il compito del giornalista non era quello di essere l'operatore socio-politico come avrebbe voluto il regime volevano invece raccontare la società così com'era per molti la cosa non è scontata nemmeno oggi ma figuriamoci negli anni 80 una voce scomoda da sempre che molti avrebbero voluto normalizzare senza mai riuscirci uno dei patrimoni di questo paese da preservare per quello che rappresentò e per quello che ancora oggi rappresenta nel panorama giornalistico e radiofonico sloveno in un comunicato ufficiale della radio da parte dello staff si legge crediamo che la comunità studentesca non debba vivere in una bolla e questo ha come conseguenza che a radio student formiamo ogni anno circa 250 apprendisti di cui 50 giovani appena formati che si uniscono poi ad una comunità di oltre 200 giornalisti con presentatori, tecnici, videomaker, editor che assieme creano più di 5.500 contributi editoriali l'anno tra questi vi sono anche quelli redatti da una delle migliori redazioni scientifiche sul suolo nazionale e la selezione e la discussione di argomenti di politica estera spesso ignorati nel nostro spazio mediatico uscire dalla bolla significa anche che la redazione musicale ha costruito e difeso instancabilmente lo status per oltre mezzo secolo di piattaforma unica per la musica alternativa i rappresentanti di radio student chiedono che vengano sospesi immediatamente i tentativi di privatizzazione dell'emittente e chiede finanziamenti per il 2021 e 2022 un periodo transitorio di due anni da destinarsi alla graduale riorganizzazione istituzionale dell'emittente si chiede inoltre alle istituzioni pubbliche competenti di svolgere un ruolo attivo nel prevenire la vendita e la commercializzazione di radio student e preservare la sua missione nel mondo dei media e dell'educazione nell'interesse pubblico come contributo imprescindibile per i diritti di tutti gli studenti e del pubblico critico la sfida per la sopravvivenza che ci troviamo davanti continuano quelli dello staff di radio student in questo comunicato non ha precedenti nei 50 anni di storia della radio l'emittente con i suoi 200 giovani collaboratori garantisce 17 ore di programmazione live al giorno ovviamente in bocca al lupo perché questa situazione si possa sbloccare e si riesca a trovare una soluzione per continuare a tenere acceso un microfono libero